L'aeroporto di Roma, sulle spiagge di Fiumicino, siamo qui per una bonifica speciale, una bonifica effettuata da parte di 60 dipendenti dell'aeroporto. Ancora una volta l'aeroporto si dimostra solidale e partecipe col territorio che lo ospita. Sì, è un'iniziativa molto voluta dall'azienda ma soprattutto dalle persone che formano la nostra azienda e soprattutto è un'iniziativa fatta fianco a fianco con l'amministrazione comunale di Fiumicino. Fa parte di un più ampio quadro di iniziative di cooperazione e armonizzazione con il nostro territorio, territorio di circondazione all'aeroporto. Ci crediamo molto, ci abbiamo già investito un po' di tempo l'anno scorso recuperando e rigenerando quest'area, tra l'altro un tratto meraviglioso del literario romano alla spiaggia di Pesce Luna, rimuovendo una serie di fabbricati abusivi, demolendoli e rimuovendoli. Adesso è il momento appunto di ripulirla totalmente e restituirla al territorio.